tutte le cose le devo studiare mamma mia e basta studio ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avete detto come avete detto dal titolo oggi andrò a farvi vedere le lettere e i regali che avete inviato voi a mio fratello daniel allora ragazzi volevo dire una cosa che allora visto che i regali sono molti e guarda qui è una bustona gigantesca quindi farò due video farò scriverò una parte e un'altra parte ora vi lascio al video ciao ora ragazzi non riesco ad annusarlo oh oh aia olè cominciamo subito scattata prendo intanto questa busta che dentro ci sono delle cose ok ragazzi Ok ragazzi, incominciamo subito a farvi vedere questa busta che in pratica io ieri, come avete visto dalle mie storie, ho fatto vedere che ho tutto per terra e ieri infatti ho messo qualcosa dentro questa busta perché non c'entrava tutto dentro, quindi ho messo qualcosa qua dentro Allora, incominciamo subito a partire con questo orsetto, che io la maggior parte delle cose ieri l'ho vista, è molto carino, c'è questo orsetto bellissimo, eccolo qui con questo fiocchettino, non è più un fiocchettino però vabbè, così ho messo carino Poi c'è questa busta che è un po' tutta stropigciata perché ovviamente dentro la busta non è che c'è dentro un'altra busta, qua questa, avete fatto un colpo di fulmine anche a Empoli, c'è scritto questo Poi dentro non c'è niente, non c'è un corno però vabbè, sarà sparso ecco, qui c'è questo, che non so chi è questa Ora andiamo avanti e qui ci sono tantissime ma tante poste, tante poste, tante lettere che avete fatto e un po' di lettere brevi le leggerò, però alcune, non so Ok, qua c'è scritto per Daniel e c'è una bellissima poste, eccola qui Poi c'è questa, molto bella Eh ma, qua l'ha scritto ti amo bici, poi l'ha scritto Benedetta, la saluto, ciao E qua c'è questa busta per Dan E dentro c'è un bellissimo Niente per sempre Niente per sempre Tu Mi aveva saluto need.orilio, ciao E qua c'è un'altra lettera C'è un'altra lettera Qua c'è una lettera fatta al computer E scritto tua Chiara Tua Chiara, Chiara del... ecco, ok? Poi c'è quest'altra Ecco, quest'altra Ci sono molte altre lette, ovviamente non ve li faccio vedere tutte perché ne sono un miliardo E vabbè, qua c'è tutto Qua è fatto così E guardate qua che carino Eccolo C'è questo qui Quanto carino, ecco Qua c'è scritto molto bello, guardate qua che carino che è E c'è questa busta Wow, che bella, raga Una E poi non penso che ci sia un'altra Eccola qua Mio fratello Poi c'è questo Stitch Cut Guarda che carino che è, raga Adesso si può vedere Eccola qua Sì, è una poesia Molto carina Poi C'è questa E poi c'è quest'altra Non so se si può vedere Molto chiaro Però, beh Bravi Comunque siete molto bravi Pff Poi Guardate quanto è bello questo disegno Peccato che non ci sia scritto il nome Però Sono molto carini Tutti e due Dio Ok Poi c'è questa lettera Per Dani Eccola qua Eccola qua Molto bella Qua non c'è scritto il nome Però vabbè Andiamo avanti Perché sennò qua non prendiamo più Poi C'è questa lettera A due pagine Non so chi è che l'ha fatto Perché riconosco la foto Eccolo qui Allora Io Ragazzi stavo scherzando Non conosco L'avevo presa per un'altra Però vabbè Ok Guardate che carino però Mi faceva un botto Ringrazio molto questa persona Perché è veramente molto bella Si chiama Aurora F Ringrazio molto Madonna Ok Penso che sia finita In questa busta Andiamo nell'altra Ora Allora ragazzi Ora vi farò vedere Tre cose Anche di più non lo so E rimanete attivi Perché uscirà un nuovo video Nella parte 2 Di queste cose Delle cose che sono rimaste E ora però Per concludere questo video Vi farò vedere queste cose Le uniche cose C'è Le uniche Ecco Con queste cose qua Allora c'è un cuscino Buonanotte C'è questo cuscino Che ha la foto di Daniel Che canta A tutte le ragazze Non so se si può notare Ok È bianco Dietro Molto 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 Bene Ok Via Sul letto Si Ok Poi c'è questo Cartellone Con le foto Di mio fratello E di Astle Molto bello E poi c'è Quest'altro cartellone Per concludere tutto C'è quest'altro cartellone Molto carino Ecco qui Allora ragazzi Ora controllo Se c'è scritto il nome O dietro Dietro no Ok ragazzi No non c'è scritto niente Però Ah no Aspetta Aspetta Qui c'è scritto Da Martina Eccolo qui In questo cartellone Qua c'è scritto Da Martina E il numero Daniel Per Daniel Qua vediamo Controlliamo bene fuori Non penso Ok Quindi uno è da Martina E un altro Non so che da chi Ok Ragazzi Questo video Finisce qui Che carino Questo video Finisce qui Mi raccomando Lasciate il Like Iscriviti Al mio Kanale E Un 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 Un